La crescita e lo sviluppo dei cittadini del domani passa anche dallo svolgimento di una sana e sicura attività fisica. Il movimento significa benessere e la nascita dei luoghi dove è possibile praticare sport significa favorire corretti stili di vita. Sono queste le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione comunale di Tarsi a centro in provincia di Cosenza a investire nella palestra comunale che è stata praticamente messa a nuovo. Un luogo che permetterà ai ragazzi di praticare sport in sicurezza e una struttura a disposizione dell'Istituto Comprensivo di Terra Nova da Sibari. La palestra comunale viene riconsegnata alla nostra collettività dopo oltre 20 anni in cui purtroppo non è stata usata o meglio era in condizioni assolutamente di degrado quindi è stata adeguata con i fondi per l'adeguamento sismico e insieme a queste sono state compiute una serie di opere migliorative che non solo hanno anche efficientato dal punto di vista energetico la struttura rendendola assolutamente ecologica, a basso consumo di energia e soprattutto avendo attenzione poi a chi effettivamente ne farà autorizzo soprattutto ai ragazzi delle nostre scuole perché in primis oggi la consegna delle chiavi simbolicamente è stata fatta proprio alle scuole perché sono loro che durante le attività didattiche e anche nel corso di ulteriori attività come il PON potranno appunto utilizzarla per poi fare un bando per la gestione di tutto questo complesso sportivo che è stato rivitalizzato grazie a questo intervento perché come dicevo prima ci sono state una serie di opere migliorative dal piazzale alle opere antistanti ad alcune strutture che quindi hanno rivitalizzato e riqualificato tutta quest'area che è adiacente appunto alle nostre scuole quindi per noi è un valore aggiunto che a tutta la nostra comunità diamo e quindi consentendo anche ripeto non solo ai ragazzi ma anche ai meno giovani di venire a fare acquattività perché comunque c'è una forte vitalità in tutti i settori della nostra comunità dal circolanziani a tutte le altre associazioni quindi questo è un luogo di grande importanza di importante aggregazione sociale e dove condividere momenti appunto di benessere e di relax per tutta la nostra comunità